Oggi la Chiesa ci fa celebrare la festa della Natività di Maria, Maria che viene al mondo, nata dall'unione di Anna e Gioacchino, i suoi genitori. Non ho pensato di dirvelo ieri, ma ieri erano 18 anni dalla mia ordinazione perché sono stato ordinato il 7 settembre, il giorno del patrono della Valle d'Ostra, come vi ricordavo ieri, e oggi, proprio nel giorno della Natività di Maria, ho celebrato la mia prima messa, per cui già che siano in tanti ne approfitto per chiedere di pregare per me e per tutti noi, per tutti noi sacerdoti. Che male non fa! Dicevamo, oggi celebriamo la Natività di Maria, venuta al mondo per fare che cosa? Per essere la madre di Dio, per essere colei che permetterà a Dio di farsi uomo e di venire sulla terra. Ciò che fa riflettere è che da una giovane ragazza, perché Maria è stata madre all'incirca 14 anni, da una giovane madre è potuto scatturire qualcosa di pazzesco, di impensabile, Dio che si fa uomo. Questo deve farci pensare che anche noi, nonostante i nostri limiti, le nostre fatiche, le nostre incongruenze, possiamo dare alla luce qualcosa di buono, di bello. Nel Vangelo, quando l'angelo si rivolge a Giuseppe per dissuaderlo dal ripudiare Maria, dice queste parole, Concepirà e darà alla luce un figlio. Tutti siamo fatti per concepire, per dare alla luce qualcosa. E occorre chiederci, ma la mia vita cosa sta dando alla luce? Che cosa sta artorendo? Non con uno sguardo efficientista, ma piuttosto chiedendomi se sto generando luce o tenebra. Se il mio modo di agire e di vivere è generatore di vita, di bellezza, oppure di morte, di buio e di tristezza. La festa di oggi ci invita a guardare a Maria, sicuramente, a dirci se siamo persone che danno luce, ma allo stesso tempo vorrei guardare anche a Giuseppe, chiedendoci, ma perché Giuseppe dubitava? Perché pensò di ripudiarla in segreto? Giuseppe molto probabilmente aveva creduto alle parole di Maria, ma lui aveva paura di entrare in una faccenda più grande di lui. Gli sembrava una roba troppo grande, che in più non rientrava nei suoi programmi, anzi scombinava i suoi programmi. Per cui poteva ripudiare in segreto Maria, lei non sarebbe stata lapidata, il bambino sarebbe nato, ma lui non avrebbe dovuto mettersi in gioco. Non avrebbe dovuto mettersi in gioco di una storia che reputava essere troppo grande e complessa per le sue forze. Giuseppe è tentato di fuggire, di girare l'angolo, di darsi la gamba, perché crede di non essere in grado di gestire questa storia. Giuseppe non crede in se stesso, ma Dio, attraverso il sogno e l'angelo, gli dice che invece lui crede. Dio crede in lui. A volte la nostra vita non partorisce nulla, perché? Perché non crediamo in noi stessi. Pensiamo di non essere in grado, aspettiamo sempre che siano gli altri a fare il primo passo, o a fare al posto nostro, ci tiriamo indietro, gettiamo la spugna, ci facciamo prendere dalla paura, dai giri di testa. Abbiamo tutti un problema, come Giuseppe, non crediamo abbastanza alla bellezza che ci abita, e vivacchiamo, tiriamo a campà, mentre Dio ci dice che in ognuno di noi, che ognuno di noi ha una bellezza dentro, che deve partorire, che deve venire alla luce, che deve tirare fuori, che deve mettere in campo. Ognuno di noi ha qualcosa di bello da mettere in gioco, il peggior peccato sarebbe non farlo. Attraverso ciascuno di noi può passare del bene, del bello. Non dobbiamo rinunciarci. Buona giornata a tutti.